Sono iniziati in via Malpighi ad Arezzo i lavori di ripristino del tetto inamianto danneggiato dalla tempesta del 13 luglio. La ditta incaricata da Arezzo Casa SPA esegue l'ordinanza del comune di Arezzo che a sua volta si era basata su quanto indicato dalla ASL. Il tetto era stato danneggiato perché erano caduti in seguito alla tempesta di vento e grandine i comignoli che quindi cadendo sulle lastre a loro volta le avevano danneggiate. I frammenti di amianto avevano raggiunto anche la corte interna al condominio dove erano stati danneggiati numerosi alberi. Anche qui sono già a buon punto i lavori di ripristino, alcuni alberi sono già stati tagliati fino alla radice. I tempi previsti per la bonifica delle parti rotte e delle sostituzioni terminano il primo d'agosto, per cui la ditta sul tetto sta lavorando, per cui rimaniamo in attesa e vediamo poi alla fine come verranno fatti i lavori. La questione che va avanti ormai dal 94 e cioè quella della rimozione in toto del tetto inamianto è sicuramente più difficile da risolvere. Gilberto Dindalini, presidente di Arezzo Casa, ha già dichiarato per il momento a mezzo stampa che se il comune di Arezzo trova i finanziamenti non c'è nessun ostacolo al progetto. So che il presidente dovrà incontrarsi a breve con il sindaco, per cui andiamo per step, cerchiamo anche di condividere la cosa. Nel senso che il comune è proprietario dell'immobile ma la gestione è di Arezzo Casa, per cui la situazione va risolta, va stabilito come, però i tetti vanno sostituiti. Dal momento della calamità ad oggi mi sono impegnato personalmente, vorrei riuscire a convocare un consiglio di amministrazione. Siamo, per quanto mi riguarda il terzo tentativo, la terza volta che chiedo che un consiglio di amministrazione venga fatto per discutere appunto il futuro di questo tetto. Io vorrei discutere di strategie non legate soltanto alla situazione di urgenza e di emergenza ma al futuro del tetto, quindi sto ancora aspettando la possibilità di esprimere il mio pensiero all'interno del CDA e cercare di trovare soluzioni condivise.